Ci è stata segnalata dall'ASUR questa problematicità che si percuote un po' su tutta la provincia, in particolar modo sul nostro distretto di Gabice-Gradara e anche sul Montecchio. Il problema di fondo è la mancanza di medici. Da quello che ci dicono ci sono oggi disponibili 5 medici su una richiesta di 28, quindi riuscire ad assicurare i turni di guardia medica con 5 soli medici diventa complesso. Quindi auspico che sicuramente possiamo essere sentiti noi sindaci che potremmo subire delle conseguenze da parte delle autorità sanitarie competenti. Quindi di conseguenza mi auguro che per il mese di ottobre si è riuscito a tamponare in qualche modo perché è stato garantito il servizio di guardia medica in tutti i weekend e festivi con la presenza di guardia medica sul territorio di Gabice. Oggi invece abbiamo la necessità in caso di chiamare la guardia medica di fare un numero di pesaro e poi la guardia medica arriverebbe su Gabice o su Gradara. Quindi ci auguriamo che possa essere risolto, però penso che lì c'è un problema più importante di carenza di medici che sono disponibili a fare il servizio di guardia medica. Voi per tante scelte a livello nazionale e regionale che si ripercuotano poi anche sul territorio, faccio l'esempio molto pratico, ne parlavo con la dottoressa Esposto, ed è stato un ottimo risultato, sono state raddoppiate le specialità in medicina, questo si ripercuote sul numero di persone disponibili, studenti, laureandi o comunque specializzandi, che vogliono fare il servizio di guardia medica. Quindi oggi non c'è medici che possano fare questo servizio. È stato chiesto la disponibilità anche ad altri medici, sia di Fano e Urbino, a poter coprire questi turni. Ci auspichiamo che il servizio comunque venga garantito. Poi se c'è un problema legato a questo periodo, ben venga. Però sollecitiamo tutte le autorità sanitarie, regionali e nazionali affinché possano essere risolte queste problematiche. Io ho scritto di nuovo una lettera all'assessore regionale per dire che quella a causa della salute va irrobustita, rafforzata, del resto tutti i soldi che il Parlamento e l'Europa mette a disposizione per potenziare i servizi territoriali. Ovviamente è chiaro che anche la guardia medica in H24 va rafforzata e quindi Gabiccia e Gradara, Pesero e Vallefoglia sono tutti cittadini di serie A e quindi capisco bene che ci sono dei problemi, ma quando non ci sono dei problemi vuol dire che non siamo più su questa terra e chi è deputato a risolvere i problemi bisogna che li risolva. In questo caso la regione Marche, quella è la struttura della regione, l'assessore regionale io l'ho invitato anche a far visita a questa bellissima struttura che non solo deve avere in H24 la guardia medica ma va rafforzata con la medicina sportiva, la medicina del lavoro, le politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, cioè tutto quello che un territorio ha bisogno di avere per evitare una mobilità o verso l'Emilia Romagna o comunque si devono spostare, fare quasi 20 chilometri a peso urbino.